Il Casarano assapora il gusto della vittoria ma viene beffato in pieno recupero dal Francavilla. Finisce 1-1 la sfida del Capozza tra la squadra di Monticciolo e la compagine Lucana, attuale seconda forza del campionato. Un punto comunque importante per i Salentini che si avvicinano a piccoli passi alla gognata salvezza. Ritmi alti ad inizio match, al secondo buona chance per D'Ambros che calcia un rigore in movimento provvidenziale l'opposizione di Ferrante. Al settimo risponde il Francavilla con il destro da posizione defilata di Vaughin. Gianni si fa trovare pronto sul primo palo. I minuti scorrono con il Casarano che gestisce il palino del gioco ma non riesce ad essere pericoloso dalle parti di Prisco. Nel finale diffrazione però i Lucani mettono i brividi a Gianni con un bolide dal limite di Ganci ma il numero 1 rosso-blu è bravissimo a respingere. Si va a riposo a reti inviolate. Il sostanziale equilibrio regna anche nella ripresa. Al dodicesimo ci prova logo l'uso dal limite ma non inquadra lo specchio della porta. Al sedicesimo Lucani pericolosi con l'ottima combinazione Croce-Nolè. Il tiro di quest'ultimo termina di poco alto sopra la traversa. Al ventisettesimo il Casarano la sblocca. Montinaro lancia a rete il neo entrato Dellino che disegna un perfetto pallonetto che si insacca alle spalle di Prisco. Casarano avanti e Francavilla che fa fatica a reagire. Nel finale i Lucani assediano l'area salentina e in pieno recupero trovano l'insperato pareggio. Cristallo calcia verso il centro dell'area. De Marco devia la sfera che beffa l'incolpevole Ianni. Uno a uno e tanta delusione per il team di Monticciolo che domenica prossima affronterà in trasferta il Sorrento.